grande vittoria ma squadra super se mi ha corso veramente bene penso oggi alla fine nel gruppettino che è rimasto davanti eravamo in due diego ha fatto un grandissimo lavoro sia nel tirare che per mantenere il ritmo in salita e poi sono riuscito a vincere finalmente dopo il secondo posto l'anno scorso sono veramente contento l'anno scorso qui eri stato protagonista ma molto sfortunato anche nella gara di domenica quindi adesso vorrei concludere al meglio la stagione e speriamo dai